Caso delle mozzarella blu, mozzarella che cambiano colore, non solamente un fenomeno che sta capitando in nord Italia ma anche in Abruzzo. Negli ultimi giorni diverse le segnalazioni all'ASL di Teramo. Dottore, come ci si deve comportare? Innanzitutto, cosa deve controllare sulla confezione il consumatore? Per non incorrere in equivoci e per cautela è opportuno che, qualora abbia ancora il prodotto, valuti sulla confezione che adesso mostro la presenza del marchio di identificazione. Il marchio di identificazione individua lo stabilimento di produzione. L'unico stabilimento dal quale provengono le mozzarella oggetto dell'allerta europea è quello contrassegnato dal numero DEBY106EG. Quindi solo e soltanto nel caso in cui fosse stato effettuato questo genere di acquisto, bisogna o riportare, in via del tutto cautelare, riportare il prodotto da chi lo ha venduto, che è tenuto al richiamo, oppure, in alternativa, portarlo nelle nostre sedi dell'ASL, particolare presso il Dipartimento di Prevenzione incontrato a Casalena, oppure anche qui a Giulianova, presso la nostra sede di Lungomare Spalato, al fine di consegnarle, in quanto in via del tutto preventiva si invita il consumatore a non consumare, a non utilizzare questo prodotto. Si tratta di un'allerta, quindi ci tengo a precisare, si tratta di misure preventive che anticipano gli esami analitici e che quindi vogliono tutelare il consumatore al massimo livello. Non abbiamo evidenze ad oggi di danni alla salute per chi in maniera involontaria le ha utilizzate. In ogni caso, la contaminazione di cui si stanno cercando le cause e le fasi di processo in cui è avvenuta, non è ancora stata individuata con certezza, pertanto è assolutamente in via cautelare utile non consumarle, ma solo e soltanto qualora provengano dallo stabilimento che abbiamo individuato.